Rappresentano efficacemente l'immaginario della Sardegna, sono capaci di fotografare in modo diretto la pluralità della cultura isolana, la sua specificità e la sua bellezza di tradizioni e lingue. Sono i film e i cortometraggi di autori sardi che per il secondo anno sono i protagonisti di cinema Nassiria a Olbia. L'iniziativa pensata nel 2022 da Pier Gabriel Dejane e Elisa Mulas è che quest'anno è affidata all'organizzazione e a direzione artistica di un collettivo che vede accanto agli ideatori la collaborazione di VOES, Associazione Culturale Olbiese di Giancarlo Caboni e Dario Bertini. Nella prima serata sono andati in scena alcuni dei cortometraggi selezionati dal concorso Visioni Sarde, la rassegna sostenuta dalla Fondazione Sardegna Film Commission e distribuita in sinergia con la Cineteca di Bologna e con le associazioni Antion Gramsci di Torino e Visioni da Icnusa di Bologna. La seconda serata è in programma domani 18 agosto e sarà dedicata ai documentari Valentes, I Coraggiosi e La Fabbrica della Morte di Lisa Camillo che sarà presente alla proiezione e poi Terra Persa, storie di land grabbing in Sardegna di Michele Mellara e Alessandro Rossi. Chiuderà il cartellone venerdì 25 agosto il muto di gallura di Matteo Fresi alla presenza degli attori Fiorenzo Mattu e Giovanni Carroni. L'obiettivo della rassegna, dicono gli organizzatori, è quello di creare un momento di aggregazione per gli abitanti del quartiere.